Una solidarietà quanto mai dolce. Non potrebbe esserci definizione migliore per presentare il fine settimana dedicato alla vendita delle uova di cioccolato per finanziare le iniziative dell'Associazione Italiana contro le leucemie. Nella BAT saranno le principali piazze delle dieci città ad ospitare i gazebo con i volontari dell'AIL impegnati nella vendita delle uova di cioccolato. Il gesto goloso lo si potrà compiere a tavola, quello di solidarietà acquistando il dolce al costo di 12 euro, cifra che verrà destinata anche alla ricerca perché, come sottolinea il dottor Giuseppe Tarantini, direttore dell'unità operativa di ematologia contrapianto dell'ospedale di Barletta, la leucemia acuta può essere guarita. Questa ricerca cosa fa? Io le dicevo prima e le dicevo anche fra le righe del mio discorso, queste malattie hanno una prognosi sempre migliore e non lo dico io, basta guardare le curve di sopravvivenza. Noi medici quando facciamo un'affermazione dobbiamo sempre poterla dimostrare. Ma soprattutto andiamo verso addirittura una terapia personalizzata, la conoscenza sempre maggiore delle alterazioni sia di tipo citogenetico che di tipo biologico molecolare. Ci permettono non solo di fare una diagnosi di una malattia ma di vedere anche questi aspetti, dei quali prima non avevamo nessuna cognizione, che permettono di ritagliare su queste alterazioni il farmaco più adatto. Tra i progetti di realizzare, l'Ailbat ne ha messo in cantiere uno importante. Adesso stiamo invece studiando una cosa veramente innovativa, la telemedicina, per fare da casa tutti quegli esami e quelle piccole cure che senza spostare il malato, e rendere praticamente necessario al malato di spostarsi anche solo di 10 chilometri e la distanza che intercorre fra Andrea e Barletto, fra Minervino e Barletto eccetera. L'appuntamento con i gazebo dell'Ail è per sabato e domenica nelle 10 città della Bat.